Con una delibera datata 31 dicembre la direzione generale dell'Ulss 7 Pedemontana per volontà del suo direttore Carlo Bramezza ha deciso la soppressione dell'unità di chirurgia senologica all'ospedale di Bassano. Un segnale che molti cittadini, soprattutto tante pazienti, hanno accolto con forte risentimento e con il timore che questo sia un primo segno tangibile di ridimensionamento dei servizi a livello generale. L'unità senologica è, anzi per Bassano era, un gruppo multidisciplinare composto da tante professionalità con il fine di offrire il miglior percorso diagnostico-terapeutico per la donna in tutti i suoi aspetti, da quello chirurgico a quello psicologico. All'interno di una serie di revisioni organizzative il DG Carlo Bramezza ha determinato la centralizzazione degli interventi chirurgici presso l'ospedale di Sant'Orso dove si concentrerà tutto il percorso pre e post ricovero. A San Bassano rimane dunque la sola attività ambulatoriale.